E questa è la dottoressa Milani, che da oggi assume la direzione dell'indagine. Salve. Dai mamma, così arresti cattivi come nei figli. Sai che non me lo merito, merito così. Senta, io sono stato ad ascoltarla, ma questa mi sembra pura follia. La verità è che brancoliamo nel buio. Quello che vi chiede è soltanto un atto di fiducia, l'ultimo. Sono l'ispettore Milani, mi raccomando, ricordati questo nome. Non ho il mio problema. Mi tendo a mio marito, è stato accusato di uccidio. Grazie. 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 Grazie.